Tira un sospiro di solievo la Sandro Abate. Evitato il peggio per Edo Villalva che si è infortunato nella gara di venerdì scorso contro la Feldieboli. Il calciatore nella giornata di oggi si sottoporrà ad esami strumentali. Il ginocchio gonfio ha rinviato il controllo in programma ad inizio settimana. Il recupero dovrebbe avvenire tra i 20 o al massimo un mese. In serata si conosce la responsa ma al momento escluso ogni tipo di rottura o problemi gravi per l'argentino. Agli allenamenti si è rivisto Douglas Nicolodi il cui infortunio sta lentamente rientrando. Il laterale italo-brasiliano ha cominciato a prendere nuovamente confidenza con il pallone. Continuerà ancora le tervii ad hoc per tornare in pianta stabile in gruppo già dalla prossima settimana ed essere disponibile per la sfida contro la Real San Giuseppe in programma al Pala del Mauro sabato prossimo. Nel frattempo nel recupero della seconda giornata di Serie A è terminata con il punteggio di 0-0 la sfida tra il Lido di Ostia e la Colormax Pescara.